anche quest'anno riapriamo le porte del nostro centro sportivo per i bambini del PoliCamp 2021 visto il perdurare dell'emergenza coronavirus ci atterremo scrupolosamente a tutte le misure di sicurezza atte a garantire la salute dei bambini e degli operatori attraverso i dispositivi di protezione e la costante igienizzazione delle mani all'ingresso tramite orari scaglionati i bambini dopo aver effettuato le operazioni di triage come la misurazione della febbre e la consegna della mascherina saranno accolti dai propri istruttori e accompagnati nei punti gazebo nell'interno del giardino. Una volta arrivati al proprio gazebo i bambini depositeranno il proprio zainetto sulla propria sedia personale e avranno a disposizione parte del giardino per svolgere i giochi all'aria aperta e dei tavoli per svolgere le piccole attività di laboratorio. Ogni gruppo avrà a disposizione anche uno spazio coperto come questo bellissimo campo da basket nel quale si potranno svolgere soprattutto in caso di maltempo attività sportive motorie sempre mantenendo e rispettando il distanziamento interpersonale tra i bambini. I gruppi ruoteranno giornalmente sui sei spazi tendone giardino previsti senza mai mischiarsi tra di loro. Qui siamo sul retro dove i bambini avranno a disposizione un bellissimo tavolo da ping pong, un biliardino e delle porticine per giocare a calcetto. Sempre sotto i tendoni disposti nell'anello giardino i bambini avranno la possibilità di consumare i pasti forniti da un'azienda qualificata in porzioni monodose. Un altro degli spazi al coperto che avranno a disposizione i bambini è questa meravigliosa palestra di ginnastica artistica con la pedana e tutti i vari attrezzi che verranno sanificati dopo ogni utilizzo. Avremo a disposizione anche questa bellissima sala polifinzionale per fare attività al coperto, giochi motori e piccoli giochi sportivi ma che all'occorrenza si trasformerà anche in sala video. Al termine della giornata i bambini saranno accompagnati sempre a orari scaglionati dai propri struttori verso l'uscita laterale. E allora se volete far vivere i vostri figli un'esperienza aggregativa e formativa attraverso il gioco lo sport in totale sicurezza iscrivetevi al Policamp 2021. Noi siamo pronti, vi aspettiamo!